E' solo una partita molto importante per noi perché giochiamo contro una grande squadra francese, ma non credo che sarà una partita decisiva perché è ancora la prima parte della stagione e ci sono ancora tante gare da giocare, ma sicuramente sarà difficile perché il Marsiglia ha iniziato molto bene la stagione, per cui dobbiamo vincere per andarci a prendere il primo posto, il prima possibile. Sì, sempre Zlatan era sempre negli spogliatoi con noi durante queste partite, anche quando era infortunato, proprio per aiutarci, per dare consigli, per noi Ibra è davvero importante ed è molto difficile giocare senza di lui perché è un gran giocatore per la nostra squadra e per cui tutti aspettiamo che ritorni per giocare ed apportare punti alla causa, proprio come faceva l'anno scorso. Sì, 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 lo so, lo so, spero di rimanere calmo. Spero di essere molto calmo.